Ben trovati in redazione amici del quotidiano online la notte. Debutta questa sera nelle sale cinematografiche Il giorno più bello del mondo di Alessandro Siami. Una fiaba gentile che vede come protagonista Arturo Meraviglia, un impresario teatrale squattrinato alle prese con un'eredità inaspettata, due nipotini. Al suo fianco la dolce dottoressa interpretata dall'attrice Stefania Spampinato. Per saperne di più vi invito a visitare il sito www.lanotteonline.it dove troverete l'intervista realizzata ad Alessandro Siani in occasione della conferenza svoltosi proprio ieri all'Otgrande Hotel Vesuglio di Napoli. Vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione. A presto!